ah porca miseria hai cliccato e invece di una bella ragazza compare questo qui aspetta un attimo se resisti fino in fondo ti racconterò una storiella assolutamente vera molto pruriginosa all'inizio della mia carriera 24 anni fa che mi ha contattato una ragazza molto carina mi ha chiesto una cosa te la racconto alla fine perché è poco politically correct come al solito ecco c'è una pillola magica ebbene sì è validata mi dice c'ha gpt4 da un migliaio di ricerche scientifiche su solo su riviste super quotate riviste scientifiche ovviamente come al solito tutti tutti scientifico aspetta 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 resisti che porta riduzione dei livelli di stress in ansia riduce il sistema nervoso simpatico che non è quello così simpatico in realtà ma è una cosa complicata e come sempre aumenta la resilienza con la parola che piace tanto no ovvero la capacità di gestire situazioni far fronte a situazioni di stress abbassa la pressione sanguigna supporta l'immunità attenzione a questa pillola magica perché esiste adesso ti racconto l'infiammazione anzi sorpresa anche alla fine qua migliora la tua espressione genetica migliora il tuo sonno o meglio epigenetica riduce il declino cognitivo cazzo e quelli della mia età ne hanno bisogno migliora la memoria a breve termine la capacità di concentrarsi per periodi più lunghi che oggi ne abbiamo tutti bisogno per cui device le cose social eccetera aumenta la plasticità cerebrale cambia fisicamente misurabilmente dopo poche settimane il cervello questo ti ripeto ci sono le ricerche su tutto poi nell'articolo sotto ti dirò anche dove andare a cercare magari se vuoi oppure chiedimene le cose aumenta l'empatia aiuta a comprendere meglio i sentimenti degli altri e quindi più empatia più vedi che è più utile di una bella ragazza che ti parla sapere che c'è un qualcosa che può migliorare anche le tue capacità di relazionarti con gli altri di prendere i loro sentimenti riduce i sintomi della depressione della tristezza ovviamente non di quelle cliniche 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 quelle dovete andare da uno psichiatra uno specialista però in generale è provato che riduce la capacità di avere pensieri diciamo etichettiamoli così negativi in generale aumenta quella che io chiamo l'armonia interiore che è la felicità la soddisfazione della vita e la consapevolezza del momento presente questa è la mi fermo qui le ricerche ripeto sono più di un migliaio quelle solide poi ci sono quelle un po un po così magari parliamo anche un po di quelle magari nei podcast ecco sei pronto a scoprire questa pillola magica questo magico supplemento integratore scientificamente basato probabilmente l'hai visto nello spoiler del titolo ma se te lo dico lo assumerai ogni giorno è la pratica della meditazione di consapevolezza la mindfulness allora io personalmente preferisco la mindfulness che ha una bella presenza e consapevolezza ma per accedere alla mindfulness che è il livello più elevato bisogna passare dalla mindfulness tra parentesi ho detto che c'è più di una pillola perché in realtà ce ne sono due anzi tre che sono il movimento e l'allenamento che hanno gli stessi identici benefici della meditazione non è un caso non è un caso che io gli abbia messe tra le pratiche base non quel miglioramento personale che ti fa fare cose strane cristalli dappertutto il chakra del cuore che si apre con il quarzo guarda come indosso il quarzo se volete essere veramente produttivi risparmiare tempo della vita dovete smetterla con le cazzate che non funzionano e attenzione che ci sono interi cataloghi di editori che qui non posso citare se non mi va fanno causa e hanno più soldi di me che hanno catalogo intero di cazzate quando si dice scientifico vuol dire semplicemente una cosa funziona su tante persone quando qualcosa è validato non è che tutta la scienza copre tutto ci sono anche i messaggi dei grandi maestri di luce ma segui chi ti pare mi sono vestito anche in bianco volevo fare l'inizio simpatico di questa puntata volevo mettere qui il mio grande antenato il guru bubananda che ci guidava ma è invece vediamo che questo è un problema serio perché intanto chi sono sono lo zio h francesco dal 1998 mi occupo di divulgazione di miglioramento personale sono partito dalla fuffa new age sono arrivato scientificamente verificato ho fatto un percorso che pochi altri fanno perché ognuno adesso vedremo si attacca alle proprie idee e non si stacca più dal 1986 io pratico ogni giorno delle tecniche meditative senza saltare un giorno ho già mostrato raccontato la mia storia in un altro video lo troverai nel podcast sotto dal mio blog cnews.net seguilo ho mostrato anche un altro video alcune delle tecnologie device usati solo quelli che funzionano perché io una politica non parlo delle persone che spargono fuffano li voglio promuovere non voglio cause ma soprattutto non voglio promuovere fare pubblicità e soprattutto non parlo anche dei device che non funzionano quelli con le lucine non hanno mai funzionato sono di meglio provati tutti roba che vibra cagate di ogni genere anche recentemente se guardate nei miei short c'era un device che nove ricerche pubblicate quindi non è che tutto quello che scienza funziona anche perché quando le ricerche se le fanno loro come certe scuole di meditazione non faccio nomi che sono create delle riviste finte che non sono scientifiche e mettevano su le loro ricerche va bene ma non sono scientifiche hanno creato degli effetti ma minchia che non esistono dei poteri che nessuno ha mai verificato ecco è chiaro che uno scettico di fronte a questo mondo non mediterà mai eppure ci sono se volesse uno scettico essere razionale veramente e vivere seguendo la scienza che ripeto non ha mai certezza sempre dubbi si fa domande ma si aggiorna continuamente sicuramente dovrebbe meditare tutti i giorni come appunto ce n'è una specifica scientifica e se uno vuole avere una vita appunto scientificamente basata non può ignorare queste due pratiche la meditazione e il movimento ma oggi parliamo di meditazione ovvero chi è razionale e dice di esserlo nei forum online dove chatta tutto il giorno e non pratica la meditazione la mindfulness è solo razionale in teoria e la volta scorsa nel blog vi ho parlato della differenza la teoria e pratica il mondo dove si pratica la meditazione è tremendamente non scientifico aggiungerei dannoso anche quella validata più in voga dagli psicologi l'MBSR diciamoci la verità non è un granché come per molte ragioni e forse va bene così forse è meglio stare alla larga perché oggi se ti appassioni di meditazione di yoga e incontri le persone sbagliate e ahimè la maggioranza è così poi nel podcast vi racconterò qualche storia personale di esplorazione e anche di altra gente facciamo una true crime facciamo una puntata true crime nel mio podcast l'ho chiamato il podcast possono rovinarti la vita queste persone quindi attenzione quindi abbiamo bisogno di una meditazione mindfulness occidentale adatta a noi scientificamente verificata che funzioni senza doverci radare la testa credere a cose strane vestirci in modo strano adottare nomi bizzarri fratello questa fratelle questa al massimo come dico sempre nipotini quindi siete tutti i cuginetti tra di voi senza entità metafisiche fantasy tranne ovviamente quelle vere che sono il grande puffo l'essere supremo tutto c'è la fata scopetta che si occupa prevalentemente dell'area sentimentale poi tutti gli altri senza dover fare canti in lingue strane arcane in modo mi piace l'idea di essere iconoclasta colui che rompe le icone le mucche sacre fanno ottimi hamburger senza dottrine catechismi di nessun tipo in modo totalmente agnostico se no la pura esperienza personale della propria neurofisiologia e qui ci hanno provato molti scienziati veri non fuffaroli come me gente che ha fatto le proprie ricerche però fino adesso c'è in giro poco e quindi farò delle puntate del podcast non perderti gli approfondimenti iscriviti su tutte le piattaforme mi trovi basta che cerchi podcast zio hack e faremo prima di tutto una meditazione mindfulness come intendo io quello che ti ho descritto guidata da me la metterò anche qui sul canale youtube poi ci saranno se mi ascolti nei podcast guardati il video nel canale che è molto divertente editate eccetera poi ci saranno due tre storie ripeto la versione true crime dei pericoli della ricerca spirituale e poi voglio spiegarti perché il mio cammino di diventare jedi illuminato o batman è fallito penserete tutti questo è un disfattista un coglione smetto di seguirlo auguri auguri buona fortuna la porta è aperta attenzione a non sbattere il culo in uscita ma se invece in quello che ho detto qualcosa ha risuonato su dentro di te allora fai queste cose perché lo vedo la maggior parte di voi spesso ho dei video che non guardati 170.000 ma non siamo iscritti al canale sono molti meno quindi iscriviti subito al canale youtube metti la campanella così non sei solo iscritto ma ti avverte quando esce un video quando esce qualcosa altra cosa da fare vai a cercarvi sui podcast perché i podcast non compaiono su youtube iscriviti anche lì ma soprattutto se vuoi un contatto diretto vai sul canale telegram e iscriviti lì e nei commenti puoi anche fare domande ovviamente poi ci sono tutti gli altri social scegli il tuo preferito purtroppo il mondo della meditazione è un mercato pieno di illusioni pieno di ciarlatani che vendono sogni che vendono cose modificate e ci sono cascato per primo in molte di queste cose ecco vorrei dirlo già che incido il video no tra un po magari un giorno farò una serie del tipo quella cosa è una cagata pazzesca una strunzata no non ho ancora deciso quale delle due e la primo video che inciderò è la medicina energetica è una strunzata e nella live poi ti racconto o nei podcast farò una live sul canale ti racconto un po delle storie che mi hanno portato a questa conclusione avevo promesso una una storia pruriginosa ecco poi se hai domande sulla meditazione sulla mindfulness eccetera farle sotto nei commenti mettici qualcosa anche un saluto un abbraccio non di luce non di luce per amor del cielo era 24 anni fa mi contatto una ragazza molto 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 carina ci sono dei vantaggi ai tempi tra essere tra i primi del miglioramento personale no e questa era una seguace di quel guerriero di 35 mila anni fa che si era incarnato in una medio per farsi fare varie plastiche facciali questi guerrieri sono strani no e ma sì dai quello che aveva anche ai suoi servizi un osteopata famoso magnacum laude portello di geocredenza che era al suo servizio che tutti oggi inseguaci di certe pessime lo ripeto filoni case editrici posti dove se volete andate ma state ben a testa di minchiate il primo passaggio di un miglioramento personale è togliersi la minchiata la testa e credono che questo sia un vero neuroscienzio ho studiato le neuroscienze perché gli ha spiegato il modello di mecleo del triumbre che andava bene quando l'ha creato così per dare un'idea non è il modo in cui funziona oggi si usa i modelli di netto poi sono anch'io un fuffarolo in quello ci vogliono scienziati veri no allora mi contatta questa ragazza mi fa senti c'ho la giornata con quello lì no quella cosa lì ma tu sei in grado di risvegliare la kundalini ho detto oh sì assolutamente ah sì 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 c'ho una tecnica infallibile però ti ripeto richiede e non è facile perché richiede un centomila duecentomila colpetti sul sacro alla prossima